l'italia di questi giorni sta diventando ancora una volta il campo di battaglia per delle polemiche molto accese che riguardano temi di estrema attualità come la fluidità di genere l'omosessualità l'inclusione dei transgender le famiglie arcobaleno da una parte abbiamo quindi il vituperatissimo libro il personaggio del generale vannacci dichiaratamente omofobo e d'altra parte invece notizia anche questa molto recente papa bergoglio che al ritorno del suo viaggio da lisbona per la giornata mondiale della gioventù rende finalmente noti quelli che sono stati colloqui che ha avuto bergoglio con la comunità locale dei gesuiti che guarda caso diversamente ovviamente dai temi del generale vannacci parlano di necessità di aprire le porte a tutti nella chiesa in maniera indiscriminata poco importa quale sia l'identità di genere poco importa quale sia l'orientamento sessuale della persona del fedele accanto a questo abbiamo poi le comunità lgbtq le comunità quindi in generale che si identificano con questa dimensione non binaria dell'identità profonda e dell'identità sessuale della persona che a loro volta portano avanti una discussione che è molto interessante quella di dire che noi come cultura occidentale siamo assolutamente una cultura totalmente retrograda anche se facciamo finta di essere all'avanguardia su tutti i campi e questo perché perché le comunità lgbtq oramai anche loro stanno diventando esperte e orientate in temi antropologici direbbero quindi che molte popolazioni a livello planetario molte popolazioni arcaiche ma anche molte molte culture contemporanee non occidentali hanno al loro interno da millenni una cultura di grande apertura di grande tolleranza e soprattutto di integrazione delle comunità transgender vengono fatti quindi esempi che vanno dall'america centrale dall'america del nord india asia fino addirittura all'oceania mi interessa parlarne e fare una piccola precisazione su questo tema di farla non solo da antropologo ma anche con come persona che cerca di ragionare sui fenomeni allora cosa c'è da dire a questo riguardo che sia chiaro perché molte persone molte persone che seguono questa mia rubrica del vaso di pandora e in generale il il canale spesso mi dicono martino è interessante tu dici delle cose poni dei problemi ma poi non ci aiuti a capire come orientarci e non ci aiuti dandoci delle soluzioni chiare su temi talvolta spinosi allora io ci proverò oggi in questa piccola nostra conversazione ritorniamo a un passo importante è vero ci sono moltissime culture che effettivamente accettano potremmo dire questa identità questa non identità binaria a livello di sessualità e a livello di espressività sociale cosa abbiamo abbiamo esempi da tutte le parti del mondo non a parte possiamo avere vedere gli già che quindi una comunità dell'india in pakistan ma ritroviamo anche nel bangladesh che sono transessuali transgender che oramai sono addirittura stati nominati nell'antichissimo testo del kamasutra 15 c'è una lunghissima storia di questa di questa comunità degli già i quali in realtà sono appunto persone normalmente di nascita maschile che poi attraverso un'operazione prendono l'identità femminile che effettivamente da secoli sono riconosciute e in parte integrate come comunità autonoma all'interno della cultura indiana addirittura gli già hanno i propri riti d'iniziazione talvolta hanno il loro guru svolgono le loro professioni e spesso la loro professione generale ovviamente è quella di essere delle prostitute di lavorare come prostitute quello che ci interessa lo troviamo altri esempi lo troviamo ad esempio nella nella cultura di samoa ugualmente ci sono degli uomini che fin dalla tenera età non si riconoscono nella propria sessualità maschile quindi vengono aggregati alla dimensione femminile riconosciuti in tutto per tutto come se fossero delle donne lo troviamo nei catei quindi nel nei cosiddetti lady boys della thailandia fino a avere poi delle situazioni completamente opposte in cui non sono uomini o persone comunque di nascita come uomini che poi scelgono di essere aggregate alla dimensione femminile e questa aggregazione essere riconosciuta socialmente ma abbiamo anche dei casi opposti in cui sono invece delle donne che non si riconoscono la propria identità femminile quindi desiderano essere aggregate alla dimensione maschile abbiamo esempi in quelli che sono chiamati i double spirits i doppi spiriti le doppie nature degli indiani la cota dei black feet dove abbiamo qui delle donne che assumono tutti gli effetti delle fattezze fisiche comportamento modo di parlare ma non solo questo addirittura ci sono donne che sono diventate guerriere in quelle culture ok quindi donne che diventano uomini che sono riconosciute a tutti gli effetti come degli uomini dalla comunità lo troviamo anche in dimensioni più vicine a noi se noi guardiamo la dimensione della dell'albania se noi ci rivolgiamo ad esempio al kosovo anche qui abbiamo le figure delle cosiddette i vergini giurate che sono delle donne che a un certo momento della loro vita spesso in età post adolescenziale decidono di diventare uomini non c'è nessun genere di intervento chirurgico qua semplicemente sono donne che si abbigliano da uomo che fumano che bevono alcol e che sono riconosciute dalle comunità dai villaggi a tutti gli effetti come degli uomini in molti casi c'è sì un desiderio di essere aggregati a un'identità dove c'è un maggior riconoscimento di sé quindi donne che si sentono più uomo e quindi vogliono diventare uomini e essere riconosciuti come tali ma è anche vero che in queste società spesso nei casi delle società tradizionali del kosovo e dell'albania si trattava in molti casi di famiglie in cui non c'erano più eredi maschi ma solo figlie femmine per cui una donna sceglieva attualmente quella che aveva maggior propensione già a questo cambiamento di mascolinizzarsi se mi passate questo termine perché proprio in maniera tale che la stessa eredità non venisse al momento della morte dei genitori dispersa ma avesse appunto un erede maschio mascolinizzato riconosciuto maschio seppur originariamente femmina a cui trasmettere direttamente l'insieme dell'eredità di esempi ne possiamo fare quanti ce ne pare e veramente è molto più diffuso di quello che noi potremmo pensare basta pensare all'antica grecia quindi la pederastia la cultura degli efibi nell'antica grecia quindi gli esempi sono tantissimi quello che però ci interessa per capire questo genere di fenomeni è che sì da una parte potremmo dire sono delle civiltà estremamente avanzate come si direbbe oggi dal punto di vista di apertura mentale della cultura perché contemplano al loro interno la possibilità che persone cambino il sesso e questo cambiamento di sesso non viene avvertito come qualcosa di traumatico e da tenere da parte da emarginare ma al contrario qualcosa che può essere benissimo integrato e che addirittura diventa funzionale alla società quindi alcune do uomini che cambiano sesso come gli già indiani possono diventare in un qualche modo un ruolo di cortigiane quindi un ruolo di prostitute lo vediamo nell'america che citavamo prima in cui le tribù alcune donne particolarmente maschie sono donne che possono diventare non solo personaggi importanti all'interno della vita di villaggio ma anche delle guerriere dei guerrieri anzi mantenendo rispetto quindi per questo loro mutamento di identità ma quello che a noi interessa ed è questo il punto fondamentale dove vorrei portarvi è che in tutte queste società questa accettazione e questa aggregazione è sempre limitata si tratta di minoranze è come se la società capisse che servono anche loro che è bene che ci siano anche queste comunità queste minoranze ma è necessario che rimangano minoranze è una subcultura all'interno di una cultura più grande che rimane però fondamentalmente eterosessuale quindi con l'identità sessuale l'identità personale l'identità sociale della persona immediatamente riconoscibili e poi aggregate a certi tipi di comportamento di usanze sociali di modi di linguaggio e così via perché tutto questo cosa significa le società arcaiche sono delle società ipocrite quindi fanno finta di integrare ma poi li tengono lì nel loro cantuccio le persone che dicono di voler integrare non è questo il fatto è che c'è una saggezza molto più universale molto più antica molto più profonda che dice che se nel mondo scomparisse questa differenza sessuale questa differenza d'identità il mondo non potrebbe durare nel tempo per quale motivo e quindi abbiamo fatto riferimento a delle società tradizionali dove è importante non solo la vita ma anche la sopravvivenza della stirpe la possibilità di proiettarsi e di progettarsi nel futuro ebbene queste società sanno che se questa possibilità di permutare la propria identità fosse aperta a tutti se quindi non esisterebbe se non esistesse più la eterosessualità cosa accadrebbe accadrebbe semplicemente che il mondo svanirebbe che non ci sarebbe più possibilità di discendenza che non ci sarebbero più figli che non ci sarebbe in definitiva più un futuro per quella stirpe detto questo ho detto tutto siete voi e soltanto voi che potete facilmente tirare le conclusioni una cosa è il rispetto una cosa l'inclusione altra cosa altra cosa ma totalmente altra cosa e quando i diritti di una minoranza rischiano diventare una dittatura da affermare sulla maggioranza perché se questo accade e togliamo di mezzo per qualche istante ideologie modi di pensare etica in maniera molto semplice come ci insegnano queste civiltà antiche a cui abbiamo fatto brevemente cenno il mondo semplicemente si estinguerrebbe scomparirebbe non ci sarebbe più un futuro a voi quindi di tirare le conseguenze e di prendere una posizione rispetto a queste problematiche estremamente attuali